Roccambolesco intervento della polizia locale di Padova domenica pomeriggio in Prato della Valle. Gli agenti sono riusciti a salvare una donna caduta nella canaletta dell'isola Memia. Allertati da dei passanti hanno trovato una quarantenne originaria dell'est Europa in stato di parziale coscienza nel canale del Memmoso. Nonostante non avesse riportato ferite, non riusciva a rialzarsi. Prestati i primi soccorsi sul fondo del canale, gli agenti hanno allertato una squadra di vigili del fuoco per estrarla con un'imbragatura di emergenza. La donna, ripresasi, non è stata in grado di raccontare e spiegare i motivi della sua caduta sul fondo del canale, profondo alcuni metri.